Via! Buona camminata! Volontari di nuovo in cammino per completare la staffetta promossa con la campagna di ATS della montagna Ottobre in Rosa per ribadire il valore della prevenzione. Dopo l'arrivo di ieri al Parco Bartesaghi, questa mattina la partenza da Piazza Campello davanti al municipio dell'associazione I Dolcissimi. Siamo pronti, siamo carichi. Quale tratta percorrerete oggi? Ne facciamo Sondrio-Ponte e poi Ponte-Teglio. È un momento importante per tutte le donne, per la prevenzione, per curarci, per essere tutte insieme vicine a chi purtroppo sta combattendo e chi potrebbe un giorno dover combattere. L'appello è rivolto a tutti, oggi in particolare alle donne, di andare a fare prevenzione, fare le visite, che prevenire è meglio che curare, come si dice. E poi comunque un appello anche agli uomini, la prevenzione vale per tutti. Siamo solamente purtroppo in quattro, perché così erano le regole per il Covid e siamo pronti per partire, siamo contenti di partecipare. A guidare i volontari lungo tutto il percorso della staffetta da Dongo fino all'Aprica, Massimo del Re, presidente di Camminando Camminando. Sono cinque tappe, siamo partiti da Dongo martedì e arriveremo sabato all'Aprica. Come si sente? Molto bene. A dare supporto ai volontari il direttore generale di ATS della Montagna, Lorella Cecconami, che sabato parteciperà alla staffetta percorrendo l'ultimo tratto da Tirano ad Aprica. Tutto questo percorso, questa impresa che sembrava quasi un sogno, la realizzazione è stata possibile proprio grazie alla partecipazione dei volontari, delle istituzioni che in tutti i comuni fanno accoglienza ai camminatori e quindi grazie veramente a loro, alle associazioni, al volontariato, alle associazioni sportive, agli enti, alle istituzioni. La partenza qui davanti al municipio vuole proprio testimoniare la vicinanza delle istituzioni a questa iniziativa molto importante che è rivolta ovviamente a tutta la popolazione e alla collettività ad essere diffusa il più possibile.